Ciao bello. Pronto ragazzi mi sentite? Pronto. Sì sono io. Sì ho sentito che fate i birichini eh mi prendete in giro ho sentito che dite che io guardo sempre il commissario Rex sì comunque Eh ci ha colpito quella frase. Eh sì vabbè perché a me piaceva il commissario Rex però io sono qui in comune a Palazzo Marino sto lavorando per la città di Milano e soprattutto ho grandi progetti proprio insieme al commissario Rex. Sì sì adesso però lasciatemi lavorare perché sto chiamando i cittadini. Va bene? Va benissimo saluti. Buon lavoro noi lo ascoltiamo eh Va bene. Pronto? Buongiorno signora sono il sindaco di Milano Giuliano Pisapia. La disturbo? No dica. Ecco volevo un po' così sentire i cittadini di Milano anche un po' per fare un rimprovero perché c'era un po' poca gente a vedere il Papa. Ma io dico che c'era perché Brescia lo conosco bene perché mio fratello abitava lì sì e sarei andata volentieri domenica comunque non può dire che ce n'era poca. Eh vabbè però lì sa molti erano per le famiglie dei Cresimandi e tutto però in giro per la città c'era veramente poco. Eh beh è logico sono andati lì. Eh ho capito però il Papa camminava in mezzo alle strade abbiamo messo le transenne e sembrava un solitario. Io comunque a parte che non ho chiamato per parlare solo del Papa ma per presentare a tutti i milanesi il nuovo assessore al turismo della città. E chi sarebbe? Sto parlando del commissario Rex. Lei lo vedeva in televisione. Sì sì. Ecco il quale ho affidato l'incarico di riportare il grande turismo della nostra città perché il signor Rex il cane è stato protagonista del telefilm visto in Europa e in tutto il mondo. Però lo so lo so. Eh che era visto da milioni e milioni di persone a tal punto che lo guardava anche il Papa non so se hai sentito. Eh sì lo so. Ecco allora noi abbiamo preso Rex come immagine della nostra città qua a Milano e ce l'abbiamo qui a Palazzo Marino. Rex saluta la signora. È un cagliorone signora un toccarellone lo sa? Ecco come come lei come lei. Lo saluti che se no è per maloso mi fa la cacca qua nell'ufficio. Salve. Ecco bravo Rex bravo. Buongiorno caro signore sono il sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Sto chiamando tutti i cittadini da parte del comune di Milano così anche un po' per improverare un po' la città perché c'era poca gente a vedere il Papa. Voi siete venuti? No non era possibile. Ok comunque io non ho chiamato adesso per parlare del Papa ma per presentare a tutti i milanesi il nuovo assessore al turismo della città. Sto parlando del commissario Rex. Va bene aspetti che Rex saluta il signore. Siete? Siete? Perfetto ecco. Ecco lo saluti eh perché se no è per maloso. Lo saluto. Ok perfetto. Ecco sa addirittura il cane sa fare anche le addizioni e le sottrazioni. Ecco lei non ci crederà ma incredibile guardi eh. Rex quanto fa 5 più 2. 7 a base. Perfetto. Ha visto? Ecco guardi sa fare anche 7 meno 2. Eccolo qua perfetto perfetto. Non ha sbagliato guardi che non siamo più d'accordo eh prima io e Rex mi dica lei un numero e un'operazione che lui si diverte. Mi speriamo che insomma morda formigoni nelle chiappe almeno la smette di andare in barca con i soldi dei cittadini. Va bene. Va bene. La saluto. Ciao a te. Ciao a te sindaco. Arrivederci. Buona giornata. Buon lavoro a tutti. Ciao belli.